Dopo Pesaro e Fano, sabato mattina è partito anche a Montecchio lo screening di massa promosso dalla Regione Marche, grazie al quale i cittadini possono sottoporsi gratuitamente al tampone rapido. Il Palavitri ospiterà fino a giovedì mattina i residenti di Vallefoglia, Monte Labbate, Monte Calvo in Foglia e Petriano. Buona l'affluenza già nella prima giornata di attività, come spiega il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli. I tamponi ho visto grandissima parte, compreso il mio, tutti negativi, è un fatto importante perché Vallefoglia aveva avuto un picco abbastanza importante, fino a circa 140 contagi, sono ridotti ad 83, un altro calo di 10 anche nella giornata di ieri. Sono partiti i tamponi con una buona partecipazione stamattina, si va da oggi fino al 21, si approfitta anche di quelli che vengono al mercato, che è giovedì prossimo quando è il giorno conclusivo, fino a luna, perché magari quando hanno fatto il mercato vanno a fare anche il tampone, o i genitori che vengono a portare i figli a scuola e così vanno a fare anche il tampone. Qui come si sa vengono i comuni di Montelabate, Vallefoglia, la parte bassa di Tavuglia, Petriano e Monte Calvo, quindi c'è un bel afflusso di gente. Comandata e come mai ha scelto di venire? Per avere una soddisfazione personale, no? Va bene, 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 è andata benissimo, non ha fatto neanche male, bene, bene, è quella che ci vuole, anche per stare più tranquilli, no? Ho scelto di aderire innanzitutto perché siccome sono un commerciante, sono sempre tra la gente, quindi alla prima occasione ho profittato per fare questo controllo che non avevo ancora neanche mai fatto, insomma, non ero stato chiamato e non ho mai fatto. L'iter è scorrevole, funzionale, è bello organizzato, se non arrivi col foglio compilato te lo compili lì, è una cosa, cinque minuti, insomma, via. Poi c'è il quarto d'ora di relax in attesa dell'esito. Benissimo, tutto molto bene, grazie all'organizzazione, grazie a tutti, ritorno al mio lavoro sapendo di essere un negativo, quindi per il momento è viva la vita, è viva il 2021. L'esito è stato negativo, quindi va bene, e niente, mi ha mandato su WhatsApp la Michela Vitri che questa mattina facevano il tampone, quindi me la sono sentita divenire perché volevo sapere il risultato, tutto qui, è andata bene. Negativo perché sì, se è negativo uno esce subito, si fa abbastanza presto. Tutto è stato abbastanza veloce, molto ben organizzato, circa un quarto d'ora ho fatto tutto. Sempre fino a giovedì l'operazione Marche Sicure andrà avanti anche per i residenti dei comuni di Gabice Mare, Gradara e Tavullia, che potranno effettuare il tampone rapido presso il palazzetto dello sport di Gradara. Anche per questi tre territori l'attività di screening è iniziata lo scorso sabato. I tre sindaci dei comuni interessati, Domenico Pascuzzi per Gabice Mare, Filippo Gasperi per Gradara e Francesca Paolucci per Tavullia, si sono sottoposti al test per invitare la cittadinanza a seguire il loro esempio.